La mousse di mortadella è una mousse veramente facile da realizzare. È particolare perché la mortadella viene considerata semplicemente come un affettato per farcire i panini. Noi la prepariamo con un po' di pepe verde e dell'ottimo pistacchio di bronte. Vediamo come! Iniziamo la nostra preparazione tagliando la mortadella a strisce per facilitare il lavoro del mixer. Ora procediamo a sminuzzare i pistacchi. Li riduciamo quasi in polvere. Inseriamo la mortadella che abbiamo tagliato in precedenza. Aggiungiamo il pepe verde, ci regoliamo secondo il nostro gusto. Ed infine il mascarpone, che abbiamo diluito con un cucchiaio di latte. Frulliamo per qualche minuto finché tutti gli ingredienti non saranno ben amalgamati fra loro. La consistenza deve essere cremosa e ben strutturata. A questo punto la versiamo in una coppetta per servirla in tavola. Oppure possiamo farcire della pizza bianca con la nostra mousse alla mortadella, come in questo caso. Se vogliamo possiamo riscaldare la pizza per pochi minuti. Il calore esalterà il profumo della mousse di mortadella. Grazie a tutti.